Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, rieccomi con una ricettina veloce veloce. Allora, prendete una bruschettina o in questo caso pane tostato, yogurt greco, io ho preso questo del Conad, con 0% di grassi, una marmellata, in questo caso l'ho presa al mertillo perché alla mora non c'era, miele liquido e more belle fresche. Ok, cominciamo. Allora, il nostro pane qui, andiamo a prendere lo yogurt greco, in questo caso deve essere abbastanza liquidino, tipo ricotta, insomma. Ok, spalmiamo bene. Prendiamone ancora un pochetto. Ok. Poi, se volete andate a mettergli un po' di scagliette della mandorla, ma io non le ho. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere le more fresche, le potete anche tagliare a metà, ma a me piacciono anche così, magari un po' più piccoline, insomma. E se volete terminare, potete mettergli anche una fogliolina alla menta. Poi, per andare a insaporire, mettiamo il miele. Così. Et voilà. Dunque, andiamo ad assaggiare. Un lemore. Un lemore. Un lemore. Un lemore.